Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto sul nostro canale. Ogni settimana pubblico video sul sistema di studio per preparare gli esami velocemente, essere sicuri di sé e prendere 30 e lode. Imparerai tutto ciò che c'è da sapere su come concentrarsi per studiare, raddoppiare la velocità di apprendimento, aumentare la comprensione del testo e il ricordo e poi organizzare il lavoro, lavorare meglio, essere più determinati e produttivi, non procrastinare e andare dritti verso i tuoi obiettivi. Insomma, le tecniche per chi ama lo sviluppo personale a tutto tondo. Ho deciso di creare questo canale perché ho avuto molte difficoltà di studio nella vita e so cosa vuol dire studiare per gli esami e lavorare a tempo pieno, incastrare studio, sport e vita privata, perché vuoi dare tanti esami nella prossima sessione e superare un concorso pubblico. Tuttavia ho anche visto che non sono tante le risorse in rete che aiutano davvero e seriamente a gestire i problemi e a diventare prima studenti di successo all'università e poi persone di successo nel lavoro e nella vita. Penso che tanti di noi quando sono in un momento difficile hanno bisogno di consigli di vita chiari, semplici e pratici che ci vengono dalla psicologia e dalla scienza. Le cose che devi assolutamente fare ora sono due. La prima è iscriverti al nostro canale cliccando il bottone che trovi su questa pagina e in questo modo ogni settimana ricevi i nuovi video e i live. La seconda è leggere gratis i miei libri sul sito memovia.it gratis perché così abbiamo la stessa base di partenza e parliamo la stessa lingua. Ovviamente quando ti va commenta, proponi i miei argomenti che ritieni interessanti e che vuoi che io tratti in un video o tutorial. Io ti rispondo sempre. Per ora ti saluto e mentre ti iscrivi io continuo a studiare e ricercare spero da oggi di averti al nostro fianco nel mio movimento.